Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Allora un modo un po' diverso, particolare per affrontare insomma una lettura e una interpretazione del sommo poeta di Dante. Sì, questa nostra iniziativa, l'iniziativa dell'Accademia Vitruvio di Fano, si svolgerà domenica 2 ottobre in un ambiente direi magico, quale è quello della Pinacoteca San Domenico, alle ore 17.30 del pomeriggio. Quindi è un orario in cui si presuppone ci possa essere una buona affluenza di pubblico. L'ingresso è libero, quindi ci aspettiamo una buona affluenza da parte della cittadinanza. È una serata in cui insieme gli organizzatori della Vitruvio e i cittadini di Fano potranno godere della grande poesia di Dante. E color cui tu fai cotanto mesti, allor si mosse.